Per smaltire le feste e rimettersi in forma, oggi ho pensato per te a questo nuovo circuito. I primi due esercizi sono da effettuare con la catball, esplosività e resistenza. Nel terzo esercizio con il manubrio andiamo a concentrarci un po' di più sulla schiena, nel quarto invece è tutto puro fiato e anche ancora resistenza attraverso il barfis, uno degli esercizi più completi che possono esistere nel mondo del fitness.